Seconda parte ben ritrovati con gli speciali del Tg di Udinese TV, stiamo analizzando la sparatoria di Trieste che ha portato alla morte dei due agenti della questura triestina il 4 ottobre scorso. Abbiamo ascoltato diverse opinioni, siamo sempre in collegamento con il dottor Carlo Nordio da Treviso, i nostri ospiti in studio, con i quali ci avviciniamo Avviciniamo anche all'altra questione che rimane aperta, quella del killer che aveva già avuto dei precedenti, alcuni episodi in Germania, però non era stato spiccato il mandato d'arresto europeo e quindi le forze dell'ordine italiane non erano a conoscenza della sua pericolosità. Una distorsione del sistema, ne sappiamo ancora abbastanza poco, anche perché poi si sono seguite notizie diverse, la strategia difensiva iniziale pareva, non so se verrà continuato o meno, perché tutti ci rifacciamo a quelle che sono le notizie di stampa, di questo stato di incapacità di intendere e volere un trattamento psichiatrico in corso, uso di medicinali, psicofarmaci e cose di questo genere. Adesso emergono anche questi aspetti con un profilo di verità e quindi che ci fosse già stata una sorta di iniziativa in terra tedesca per le cose che abbiamo sentito dire anche nei servizi. La problematica è proprio la mancanza di uniformazione, perché all'evidenza se ci fosse stata una corretta armonizzazione tra le varie forze di polizia di paesi che all'evidenza sono paesi europei e quindi uno si aspetta che ci siano queste sorte di comunicazioni, probabilmente se non certamente, la pattuglia avrebbe avuto nei suoi terminali e nelle sue informative il sapere di avere a che fare con un soggetto già qualificato come pericoloso e quindi con tutti quei contenimenti cui faceva Cenno prima il consigliere Nordio. Perché è vero che nel momento stesso in cui io so che vado a prendere un soggetto che non ha una sorta di precedente o una connotazione di pericolosità, seppur sempre con il dovere di prestare assolutamente attenzione a quel soggetto perché evidentemente mi sto approcciando ad un soggetto che comunque potrebbe essere potenzialmente indagato, è un paio di maniche. Altro discorso se so che invece è un soggetto che comunque ha già dato manifestazione di pericolosità e quindi questa cattiva armonizzazione dovrà essere indagata a fondo anche per trovare soluzioni immediate perché ormai sappiamo che la circolazione di questi soggetti all'interno dell'Europa rientra talmente nel nostro quotidiano che evidentemente dobbiamo imparare a difenderci anche da queste cose. Avvocato Cianci, il capitolo perizia psichiatrica quanto potrà incidere secondo lei alla luce anche del trascorso criminale del soggetto? Io sinceramente non credo tanto al profilamento psicologico-psichiatrico di una personalità criminale di quel genere lì, insomma no. Non è specificamente la mia materia affrontare dal punto di vista psicologico-psichiatrico un comportamento del genere, ma quello lì è un comportamento criminale di una particolare specificità e anche abilità criminale perché comunque sfilare le armi ai poveri agenti di polizia e utilizzarle in quella maniera pervasiva e devastante indica appunto un indice delinquenziale alla enesima potenza. Riporterei per quello che è la mia piccola esperienza il discorso sui temi più generali e cioè l'agente di polizia, il carabiniere si trova esposto in una situazione estremamente cruciale con l'uso legittimo delle armi che la legge gli consente di compiere in quelle circostanze. Però l'uso legittimo delle armi così come la legittima difesa sono concetti generali che alla fine scaricano tutte le loro tensioni e tutte le loro criticità sulla persona che in una frazione di secondo è chiamato a decidere chi è aggredito in casa o ancora di più l'agente di polizia. Io più che andare a incidere nella normativa sostanziale come è stato fatto con quelle aberranti modifiche legislative sulla legittima difesa tagliando e cucendo aggettivi sostantivi rendendo la norma assolutamente contorta e quasi illegibile che in realtà chi ha scritto il codice penale di procedura penale insomma erano grandi giuristi negli anni 30 e 40 sapevano cosa scrivevano, oggi no. Vedrei di più un intervento in tutti e due casi, legittima difesa e uso legittimo delle armi per gli agenti di polizia e per i carabinieri, un intervento processuale, cioè devono essere in qualche maniera tutelati nel momento dell'esercizio dell'azione penale contro di loro, cioè il cittadino che si difende soprattutto di notte in casa e con delle fattispecie che ben conosciamo e anche l'agente di polizia che usa le armi non può essere trattato con lo stesso armamentario strumentario del codice di procedura penale per diciamo l'adruncolo colto in fragrante. L'azione penale verso gli agenti di polizia e gli esponenti delle forze dell'ordine deve essere soggettata a qualche forma di tutela. Una volta c'era lo strumento che poi è diventato negativo della vocazione da parte della procura generale, cioè solo il procuratore generale presso la Corte d'Appello poteva promuovere certe tipologie di azione penale. Io credo che però una tutela per gli agenti, per gli ufficiali, agenti ufficiali di polizia giudiziaria ci voglia più o meno, credo di non scandalizzare nessuno, più o meno come c'è per i magistrati. Il magistrato oggi in Italia non è esposto alla denuncia di chiunque a essere soggettato a un procedimento penale o un'azione civile per qualsiasi motivo da parte di qualsiasi persona che delirando lo accusa di chissà che illeciti o che fatti specie di responsabilità. In realtà lo stesso filtro che c'è per i magistrati in qualche maniera si potrebbe, con le opportune cautele, garanzie e anche tecniche giuridiche, applicare agli agenti di polizia. Insomma, quando l'agente di polizia mette mano alla pistola oppure ferma una persona o lo getta a terra o lo immobilizza, deve sapere che non è esposto evidentemente all'intervento del... Ma questo può valere anche se mette le manette ad una persona che... Devono essere protetti, devono essere... L'agente di massima si è anche presentato spontaneamente perché il fratello, anche se non lui direttamente, ma è stato il fratello ad avvisare la polizia, insieme lo ha accompagnato lì, lo hanno preso... Torniamo nel concetto di una zona grigia dove nessuno sa esattamente fino a che punto si può spingere e dove può andare. E' anche una fatalità, certo non può essere tutto ricondotto al fato, però è chiaro che una concatenazione di eventi che ha portato a partire dalla Germania che non ha fatto alcune cose, non ha comunicato, non c'è stata una rete di informazione fino al fatto che questo ragazzo è arrivato appunto qui, non si sapeva che avesse problemi mentali e... Guardi, dottore, vorrei però chiedere un attimo... Solo un concetto di pochi secondi, è come negli incidenti aerei, cioè le grandi disgrazie aeree succedono non per una defiance, ma per un cumulo, una sequenza di errori tecnici, errori umani o defiance tecniche che si cumulano, uno più due, più tre, più quattro e succede la tragedia. Eh, forse proprio per questo però è utile non farsi prendere dalle emotività ed essere abbastanza razionali. Dottor Nordio, rispetto a quello che ha detto l'Avvocato Cianci adesso, lei che cosa cosa dice? Riguardo anche la tutela che i magistrati di più godono i magistrati, che potrebbe essere in qualche modo copiata, replicata per gli agenti di polizia e giudiziaria. Allora, bisogna fare una precisazione. Non si può, è vero, far causa civile nei confronti di un magistrato perché ci sono dei filtri, ma questo non è vero per la denuncia penale. Noi magistrati siamo stati denunciati anche da pazzi e non abbiamo avuto nessuna cautela o non c'è nessun filtro che tuteli il magistrato davanti a una cosiddetta denuncia penale. Questo per precisare le cose. È vero che una volta per le forze dell'ordine esisteva la cosiddetta garanzia amministrativa, nel senso che non si poteva procedere nei loro confronti se non attraverso un'autorizzazione e comunque vi era la vocazione, come ha detto giustamente l'Avvocato prima, da parte del Procuratore Generale. Tutto questo è stato dichiarato incostituzionale sulla base della considerazione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, un po' come quando è stata tolta l'immunità parlamentare ai nostri onorevoli. Io credo però che sia giusto prendere in considerazione una forma di tutela esclusivamente nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine che si trovano in primissima fila nella lotta contro la delinquenza. Si possono benissimo trovare delle forme costituzionalmente compatibili per limitare i danni che possono derivare da denunce infondate nei confronti dei nostri poliziotti. Non fosse altro per esempio quello di garantire il sollevamento delle spese legali che non sempre per esempio lo Stato assicura nei confronti dei poliziotti. In sostanza io credo che l'attenzione dello Stato nei confronti delle forze dell'ordine, più che essere un'attenzione legislativa, di leggi ne abbiamo già abbastanza, debba essere un'attenzione per così dire amministrativa, innanzitutto di tutela appunto da parte dell'amministrazione anche sotto il profilo finanziario e poi ovviamente l'addestramento. Purtroppo noi abbiamo assistito a delle sciagurate posizioni di personaggi che quasi davano la colpa ai poliziotti di essersi fatti ammazzare e questo ha indignato giustamente tutti noi a cominciare del sottoscritto. È vero però che le nostre forze dell'ordine sono sottoposte a un tale stress, a un tale sovrapproduzione di lavoro che possono renderli stanche e anche disattente e il fatto che una persona all'interno di una questura si impossessi per esempio dell'arma del poliziotto non è poi una cosa così rara, hanno fatto anche molti film su questo ed è la ragione per cui per esempio in certi settori a cominciare dalle carceri i poliziotti girano disarmati. In conclusione dico che l'addestramento e l'attenzione devono prevalere secondo me sulla eventuale produzione, innovazione legislativa. I nostri poliziotti devono essere più, non più motivati ma devono essere meno stanchi quando lavorano, devono lavorare tranquillamente in pace, devono essere retribuiti quando fanno i lavori straordinari, non devono essere sottoposti a stress eccessivi perché è lì che si nasconde l'errore e magari una disattenzione che può costarti la vita. Avvocato Comand. A me fa piacere che il consigliere raccolga e arrivi a questa sintesi perché purtroppo in queste situazioni dove l'emotività poi sempre prevale, si corre il rischio di fare confusione e ci sono argomenti che si ritiene preferibili toccare, quindi come l'incidenza sul sistema di carattere generale e altri che invece sui quali siamo tutti maggiormente prudenti. Io proprio per l'eccezionalità dell'evento, concordo con quanto dice il dottor Nordio, è proprio sulla problematica del fatto così come è accaduto. Benvenga un miglior trattamento, a cominciare dal trattamento economico, trattamento di gestione delle nostre forze dell'ordine perché vengano evitate queste situazioni. mai mi permetterei di poter dire o attribuire se ci sono stati errori o non errori. Certo si è che la situazione nel suo complesso è talmente strana e paradossale che è difficile da inquadrare, ma può starci che proprio questa forma di stanchezza, questa forma di distrazione, questa forma di superficialità abbia inciso o abbia avuto un effetto concausale nel verificarsi di questa tragedia. Quindi se dobbiamo fare una valutazione proprio a 360 gradi lavoriamo anche su questo, cioè che ognuno sia messo nelle condizioni di fare il proprio lavoro nel miglior modo possibile. Perché se noi mettiamo i nostri figli delle stelle nelle condizioni di lavorare in modo ottimale io ho l'impressione che questo genere di tragedie non dovrebbero o non potrebbero o non potranno più accadere e dall'altra parte non avremo la necessità di incidere immediatamente su quelli che sono delle norme di sistema che a me sembrano già perfezionate e perfette se correttamente applicate. Andiamo ad ascoltare proprio la voce del sindacato di Polizia, Olivo Comelli, segretario regionale del SAP, il sindacato di Polizia che fa il punto proprio sui tanti temi che abbiamo affrontato fino ad ora, le dotazioni, gli agenti, le loro necessità, le loro esigenze e con anche un focus specifico poi su quanto chiedono da tempo ma ancora non hanno ricevuto risposte. Tragedia di Trieste che riapre il problema della sicurezza. Sì, non dico che fosse annunciata ma comunque dai primi di giugno a ieri ci sono state oltre 300 aggressioni agli operatori delle forze di polizia con più di 300 feriti quindi era chiaro che qualche episodio potesse sfociare in eventi così drammatici come quelli che sono periti due nostri colleghi. Purtroppo noi da tempo che lo denunciamo abbiamo bisogno delle garanzie funzionali, viviamo in un sistema malato dove noi siamo la nello debole. Si parla soprattutto di fondine visto quanto è accaduto e della loro sicurezza ma forse vi manca proprio l'equipaggiamento adatto? Certo, le fondine sono un tassello del puzzle per sistemare e renderci funzionali a 360 gradi perché anche il taser è stato sperimentato, è stato ok ma ancora i colleghi su strada a parte nei capoluoghi dove era stata prevista la sperimentazione non ce l'hanno. Il taser è un elemento strumentale importantissimo perché ci permette di non avere il contatto con gli aggressori o con chi vuole usare la violenza e quindi è stato dimostrato che anche ha un effetto preventivo perché quando viene attivato fra i due elettrodi la scarica il più delle volte il soggetto si ferma e si arrende in buona sostanza. Nelle ultime 24 ore due accoltellamenti forse avreste bisogno anche di protezioni per questo magari più leggere dei giubetti tradizionali ma da poter utilizzare? Certo, quello che stiamo denunciando da anni oltre il taser anche i giubetti antiproiettili, i sottocamicia che oggi l'amministrazione passa in parte perché non per tutti i colleghi e per molti di loro se lo acquistano come si acquistano anche la normale divisa operativa perché sappiamo che a oltre a 5 anni dall'adozione non tutti i poliziotti hanno la divisa operativa. Mercoledì sarà il giorno del silenzio ma poi cosa chiederete e a chi vi rivolgerete? Noi continueremo sulla nostra strada, vogliamo le garanzie funzionali, cioè una copertura assicurativa che preveda quando veniamo coinvolti per ragione di servizio in episodi giudiziari che l'amministrazione passi effettivamente la copertura legale, gli strumenti idonei, l'inasprimento delle pene per tutti i fatti contro gli operatori delle forze di polizia, oltraggio, resistenza e violenza che oggi dal decreto sicurezza B sono previsti solo in ordine. pubblico e quindi poi anche gli equipaggiamenti, come ho detto, il taser, i sottocamici, i giubini antiproiettili, insomma tutta una serie di elementi che noi stiamo chiedendo da anni, ma purtroppo dopo 10 anni di tagli lineari è difficile recuperare il gap che si è creato. Abbiamo ascoltato le richieste del sindacato, da tempo chiedono interventi specifici, finanziamenti specifici che poi appunto ogni volta capitano queste tragedie e si ritornano d'attualità. Comando? No, no, sono d'accordo e concordo su tutto. Nelle mie prospettazioni da anni dico che quando si parla di taglio contenimento della spesa pubblica, la spesa pubblica dovrebbe essere contenuta in ogni direzione, salvo sanità, istruzione e pubblica sicurezza. A mio avviso queste sono le tre priorità fondamentali dove i fondi dovrebbero essere indirizzati. La sicurezza è uno di questi fatti. Abbiamo sentito il rappresentante sindacale, non possiamo fare altro che concordare perfettamente con quello che sta dicendo perché ha dei punti di riferimento globali che sono i punti sui quali noi dovremmo proprio incentrare l'attenzione. Ha ripreso un po' le file di tutto il discorso. La polizia assicurativa che servirebbe certamente per dare loro una garanzia nel momento stesso in cui si trovano coinvolti sulla verifica del corretto operato, perché poi di questo... Certo, 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 esattamente lo stesso profilo. E poi tutte le garanzie funzionali che sono quello che stavamo dicendo prima. Il giubbetto, le armi di un certo tipo, la fondina, il taser, sono tutti elementi fondamentali per garantire la sicurezza sulle strade e garantire quello che è il corretto ordine pubblico. Aggiungo io anche da parte di noi cittadini, entro certi limiti, naturalmente un atteggiamento culturale un po' diverso che cominci anche a tollerare alcuni tipi di interventi, entro certi limiti della privacy, ovviamente del rispetto della dignità delle persone, ma dobbiamo smetterla di caricare sui social, su qualsiasi altro strumento in rete, con l'esplosione adesso del web, qualsiasi cosa diventa un caso nazionale e poi dopo magari si sgonfia e quindi si crea anche questa sfiducia nei confronti di una categoria. Ecco, magari molti agenti, pochi agenti per fortuna sbagliano, carabinieri sbagliano, però c'è una stragrande maggioranza che fanno le cose come vanno fatte. Però in certi casi bisognerebbe anche un attimo essere cauti nel giudicare l'operato di alcuni fatti. L'ultimo, quello del carabiniere Rega Cercello, certo non andava abbendato quel delinquente, ma resta un delinquente che ha rifilato 11 coltellate ad un carabiniere e forse quella benda in quel momento hanno deciso che era opportuna. Stop, non facciamo né un caso. Questo è quello che dico io come cittadino. Ma d'altro come cittadino le dico, autorità e autorevolezza noi li abbiamo scordati nella nostra società, perché viene riportato sempre al principio di autorità, che vuol dire rispetto delle forze dell'ordine, come vuol dire rispetto dei medici, come vuol dire rispetto degli insegnanti. Noi queste cose ce le stiamo dimenticando nella nostra società. È chiaro che poi alla fine dovremo tutti fare un passo indietro, a cominciare dal quindicenne che accoltella l'altro giorno, il coetaneo, il diciassettenne. Ormai noi stiamo smarrendo sotto il profilo sociale questi aspetti. Se facessimo un passo indietro e riconoscessimo spontaneamente il principio di autorità, a me hanno sempre insegnato che a una divisa va portato rispetto. Io mi fermo un metro prima quando ho a che fare con una divisa. La divisa mi rispetterà come cittadino. Però se non abbiamo questi principi e questi paletti, purtroppo ho l'impressione che continueremo a parlare inutilmente e ritornare sempre più spesso su queste tematiche. E poi a strumentalizzare e ad agire di pancia, come spesso succede in questi casi, purtroppo senza andare al nocciolo della questione. Adesso questa generica richiesta di inaspiramento di pene, anche nei confronti di chi si rende colpevole di aggressione o comunque di oltraggio pubblico ufficiale, mi pare che gli strumenti anche qui ci siano. Chiederei proprio al dottor nordio. Oggi se io in strada do un pestone ad un carabiniere o a un agente di polizia qualche guaio lo passo. Non è necessario inaspire pene oppure fare chissà che cosa, aggiungere articoli, leggi ed altri provvedimenti. Se io commetto un reato nei confronti di un pubblico ufficiale, un agente di polizia giudiziaria, qualche problemino ce l'ho, ce l'avrò. Siamo sempre lì, le leggi ci sono e sono anche abbastanza severe, anzi direi molto severe. Purtroppo, come diceva Platone, è meglio avere una legge stupida e un giudice intelligente piuttosto del contrario. Oggi anche la magistratura si è appiattita su una sorta di perdonismo indulgenzialista nei confronti di quella che viene considerata erroneamente la microcriminalità. Chi aggredisce un carabiniere o un poliziotto potrebbe anche prendersi 4 anni di prigione, anche 5. In realtà gli danno 8 mesi con la condizionale e il giorno dopo viene scarcerato. Questo non è colpa della legge, è colpa del magistrato. Cosa vogliamo farci? Certo, possiamo inasprire le pene sui minimi, innalzandole, però rendendole sproporzionate rispetto ad altri reati che sono ancora più gravi. Perché, non lo so, se minacciamo 10 anni a quello che dà un pugno a un poliziotto, cosa facciamo a quello che stupra un bambino e poi lo uccido? Dovremmo dargli tre pene di morte. L'importante sarebbe sempre avere una magistratura che nel momento della decisione attui un giusto equilibrio tra la retribuzione della pena e anche, quello che è fondamentale, la soddisfazione all'allarme sociale che il reato ha suscitato. Per cui non è accettabile vedere una persona che abbia aggredito un poliziotto in carabiniere e il giorno dopo circola libera per la strada. Ma questa non è colpa della regia, questa è colpa del giudice. Proprio su questo volevo rimanere sempre con il dottor Nordio, perché il cittadino comune ha la luce anche di altri episodi che si sono verificati in passato. Si chiede ora se, appunto, con queste perizie psichiatriche il killer rimarrà in cella oppure troverà l'escamotage attraverso i suoi legali per farla franca. Ma questo è un problema delicatissimo perché la nostra legge è molto chiara su questo, cioè chi sia infermo di mente non può essere punito ma deve essere, diciamo così, curato con l'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Se è semi infermo di mente vi è un po' una metà e metà, un po' di prigione, un po' di ospedale psichiatrico. La questione è aggravata dal fatto che durante la costanza del cosiddetto trattamento se la persona viene giudicata non più socialmente pericolosa esce e quindi abbiamo assistito a episodi abbastanza strani in cui una persona che si era macchiata di un grave delitto era stata trovata incapace di intendere e di volere socialmente pericolosa, dopo qualche anno qualche psichiatra l'ha ritenuto socialmente non più pericoloso e questa persona è uscita. Qui sì, effettivamente la responsabilità del legislatore esiste perché non ha coniugato bene anche qui il principio della repressione con il principio della pericolosità sociale che peraltro è un giudizio che è demandato a uno o più psichiatri in una scienza che non è certa, una scienza esatta e molto spesso prendono degli abbagli, cioè giudicano per esempio socialmente non pericoloso delle persone che il giorno dopo ammazzano la mamma o ammazzano il primo passante per la strada. Quindi questo è un problema veramente molto delicato e fa parte diciamo così del gravoso compito del magistrato quando deve giudicare. Cianci, lei prima voleva intervenire sull'altro discorso. Sulla faccenda dell'aggravamento delle pene, allora è stato detto perfettamente tutto, a me ha colpito qualche giorno fa, dieci giorni fa, la questione dell'ergastolo stativo, cioè la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha detto che praticamente, soprattutto in materia di criminalità organizzata, sono delle persone condannate anche più ergastoli, però secondo la Corte Europea hanno diritto, non è proprio carcere duro, sono delle limitazioni nei contatti con l'esterno sostanzialmente. Comunque la Corte Europea dice che in realtà anche queste persone hanno diritto di godere dei benefici penitenziari e quindi di avere tutta una serie di, detto in modo sbrigativo, diciamo di sconti o facilitazioni che poi possono portare anche nel caso dell'ergastolo alla liberazione condizionale dopo 28 anni. In realtà, secondo me, bisognerebbe pensare, soprattutto per dei gravissimi fatti di criminalità che coinvolgono l'omicidio, l'uccisione di esponenti delle forze dell'ordine o di magistrati, a maggior ragione, bisognerebbe pensare all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale e senza possibilità dei vari strumenti della legge sui benefici penitenziari. Questo esiste in paesi civili come l'Italia o paesi più civili anche di noi, pensiamo agli Stati Uniti e anche al Giappone per la verità. Quindi l'ergastolo senza alcuna forma di attenuazione. L'ergastolo dice la parola stessa, semanticamente, vuol dire stare in carcere per il resto della tua vita sino alla morte. Ora, certo c'è la Costituzione la quale dice che le pene devono tendere alla rieducazione dei condannati, però la rieducazione la possiamo fare anche tranquillamente in carcere, come avviene negli Stati Uniti. Dopo dieci anni che ti comporti bene, il regime carcerario si attenua, hai diritto magari a dei programmi di aggiornamento culturale o sportivi o altre cose, però resti comunque in carcere fino alla fine dei tuoi giorni. È un po' il pensiero del procuratore Gratteri di questi giorni che si è detto preoccupatissimo. Questo si può vedere perché è una cosa che secondo me si potrebbe anche, avrebbe un significato e concluso, un significato evocativo, un significato simbolico. Cioè lo Stato riprende un po' le redini in pugno della sua potestà punitiva e è in grado di dire a qualcuno che va proprio fuori binario, in grado di dire a questa persona, insomma non c'è la pena di morte, però comunque tu la tua vita civile l'hai terminata per sempre. Soprattutto quando c'è l'omicidio dell'esponente delle forze dell'ordine o del magistrato, che è il massimo che si può combinare in questo mondo, insomma voglio dire dal punto di vista criminale. Io vorrei fare una considerazione sulla durata delle pene con il dottor Nordi o poi magari anche con voi prima di chiudere. Dottor Nordi, abbiamo le pene che sono ferme per quanto riguarda l'entità a qualche anno fa, sono quelle per domicilio, tot anni, adesso non so con precisione quanti. Però nel corso degli anni la vita si è allungata, non sarebbe il caso di rivedere, Cianci lei sorride, no giustamente sorride, però dico nel momento in cui oggi non si muore più a 60 anni come 40 anni fa, ma per fortuna si arriva a 80-85, forse andrebbe rivista anche l'entità della pena, perché effettivamente poi ci troviamo con persone che escono di galera dopo aver commesso un omicidio, dopo aver scontato 15-16 anni anche, l'hanno fatto a 30, escono a 45-50 con tutti i benefici di legge che abbiamo in Italia e possono vivere altri 30-35 anni nonostante si siano macchiati di delitti pesantissimi. Ho detto una stupidaggine assoluta oppure c'è un qualcosa di... che... no, 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 guardi, mentre sentivo appunto questo discorso dell'avvocato prima sull'argastolo ostettivo, che meriterebbe ovviamente una trasmissione solo a sé stante, perché è un problema dannatamente complesso che coinvolge la Costituzione, la Corte europea e tante altre cose, stavo pensando a quello che adesso lei stava dicendo, cioè noi abbiamo un sistema abbastanza antiquato per cui l'argastolo si è trasformato in una sorta di pena detentiva a fronte di certe situazioni che poi si verificano quasi sempre, che poi diciamo si ferma ai livelli tra i 25 e i 30 anni, cioè in poche parole quando dopo 20 anni o 25 di reclusione una persona si è comportata bene, anche se è condannata all'argastolo comincia ad uscire, in realtà comincia a uscire anche prima e magari viene liberata. E quindi, ecco, faccio un esempio, quando io precedevo la Commissione per la Riforma del Codice Penale si è posto il problema di abolire o meno l'argastolo. Per risolverlo io ho proposto di considerare l'argastolo come i teologi considerano l'inferno, cioè esiste, perché deve esistere teologicamente, ma è vuoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che imporre un fine pena mai a una persona, precludendogli qualsiasi possibilità di uscire dal carcere fino al momento definitivo della morte, non solo rischia di essere inumano o incostituzionale, ma è anche poco produttivo, perché questa persona magari in carcere non farà niente anche per vivere bene, per vivere diciamo così pacificamente la sua detenzione. È vero però quello che dice lei, se una persona commette un reato gravissimo a 20 anni e viene liberata dopo 25, si trova che a 45 anni ancora giovane è come se non avesse fatto niente. Quindi quale sarebbe la soluzione? Ripeto, l'argastolo si deve mantenere ma come l'inferno deve essere vuoto. Se dopo una certa esecuzione della pena proporzionata alla gravità del reato, quindi dopo 40 o 50 anni, una persona tra i 60 e i 70 anni, anche se ha ammazzato un carabiniere, magari in carcere si è comportato bene e si è pentito, dopo 40 anni di detenzione, beh insomma possiamo anche chiudere un occhio. Certo 25 sono pochi, questo è vero. Questa 100 dovremmo fare anche per i detenuti, c'è anzi? No, no, per l'amor di Dio, non mi permetto neanche di replicare al dottor Nordio. Non una retica, ma un suo padre. Assolutamente, però insomma, questa storia... Abbiamo il marito di... O c'è l'argastolo, o se no, guardi in Russia c'era una volta, in Unione Sovietica, c'era la pena di morte, ma è vietato l'argastolo. Lì c'è il massimo di 15 anni, le condizioni delle carceri in quel sistema, insomma ce le possiamo solo immaginare, la pena di morte le hanno abolita. Allora, è meglio che il legislatore abbia un moto di sincerità, aboliamo l'argastolo e non ne parliamo più. Ma se, insomma, una pena che abbia il significato dell'inferno, come giustamente è stato ricordato, secondo me ci deve essere, perché riassume in se stessa anche la eticità dello Stato e del sistema penale. Una via di mezzo potrebbe essere non dare una pena come l'inferno, ma allungarla. E quindi evitare che un Salvatore Parolisi che ha ucciso la moglie, condannato qui in tre gradi, è andato in galera, dopo otto anni comincia ad uscire e nel giro di qualche altro anno verrà liberato ed è ancora giovane, quindi avrà superato la sua espiazione della pena, sarà fuori, sarà un uomo libero. Qui c'è bisogno anche dire una cosa. Se la salute lo assisterà, camperà altri trent'anni, quarant'anni. C'è troppa sociologia nel sistema delle pene, c'è troppa sociologia, anche nei, dico una cosa magari adesso antipatica, ma anche nei tribunali di sorveglianza, che sono gli organi dell'autorità giudiziaria deputati appunto a occuparsi dell'esecuzione delle pene. Troppa sociologia e poca e poca punizione democratica e legale. Si vede che non frequenti il Tribunale di Sorveglianza regionale, perché la regola è il no su tutto, quindi si vede che manca da un po' di tempo dal nostro Tribunale di Sorveglianza. Accetto la critica, però da qualche parte insomma il sistema, così non va, bisogna mettere mano. Un flash finale anche lei Comand su questo tema appunto dell'ergastro. Io sono sempre controcorrente in questa direzione, perché quando si fanno questi discorsi mi rendo conto che si prende solo una parte del problema, e cioè l'allarme sociale e la sicurezza pubblica. Dell'individuo non si parla più. No, parliamo di un individuo che ha commesso un reato, e in questo caso parliamo di reati molto gravi, e quindi a me che dopo 15 anni esca di galera fa fastidio. Immaginiamo alla vittima che in molti casi non può neanche doversi perché è morta e ai parenti della vittima. Le faccio una provocazione, se deve essere il fine pena o mai e uccidere la speranza, reintroduciamo la pena di morte. Le do una provocazione, ma se le dico una cosa di questo genere lei dice no, la pena di morte mai. Ma è perfettamente vero quello che dice il consigliere, e cioè io sarei dell'idea, ho forti dubbi, non conosco così approfonditamente la legislazione americana perché poi ha un criterio federale e ha un criterio statuale, quindi ogni stato ha un suo regime, ma per quanto mi consta o nei miei ricordi, gli Stati Uniti non hanno l'ergastolo, hanno i 200, i 300, i 400 anni che sempre gli consentono la rivisitazione rispetto a quello che è il percorso di espiazione. E allora si arriva ai 35, 40 anni. Però partono quindi da pene più pesanti. Certo, 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 ma per questo dico io sarei favorevole a questo. Se arriviamo all'abolizione dell'ergastolo e arriviamo a pene evocative di un inferno, ma che non sia tale in terra, allora questo potrebbe essere il giusto mezzo, la soluzione di equilibrio che protegge la società ma anche tiene in debito conto quello che è l'individuo. Perché a me personalmente buttare via la chiave non è mai piaciuto. Ci fermiamo qui, abbiamo esaurito il nostro tempo. Allora andiamo a ringraziare da Treviso Carlo Nordio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Un saluto. Un saluto anche dallo studio, dagli avvocati. Un saluto. unirà tutto il paese. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.